Oggi in Consiglio regionale ho presentato un'interpellanza sul vicenda dei miasmi, dei cattivi odori nella zona Vallecupa di Colonnella. Un problema sentitissimo da parte di famiglie, imprese, lavoratori che ogni giorno devono sopportare questi cattivi odori che provocano una serie di emergenze sia dal punto sanitario che dal punto di vista ambientale. I comuni, le opposizioni, i gruppi politici ma soprattutto tanti cittadini si sono appellati alle istituzioni per trovare le soluzioni possibili. 1200 firme raccolte, le nostre interpellanze così come le interpellanze anche dei colleghi consiglieri delle Marche, l'Agenzia Arta regionale impegnata su questo tema ma anche le agenzie di Marche ed Emilia Romagna. Sei comuni coinvolti, coinvolti anche da un'emergenza turistica imminente. E da questo punto di vista ci attendevamo oggi una risposta chiara, concreta, puntuale sugli impegni di Regione Abruzzo circa questo tema. Purtroppo l'assessore Campitelli non solo ha deluso me nella sua risposta ma soprattutto ha deluso i cittadini, chi vive quella emergenza. Abbiamo chiesto un impegno puntuale, preciso, con date, risposte, impegni, cronoprogrammi definiti. Purtroppo oggi la Giunta regionale non ha dato alcuna risposta puntuale a quelle comunità che stanno soffrendo. Ma non è la prima volta che la Giunta regionale è assente e soprattutto non dà risposte ai nostri territori, in maniera particolare alla Val Vibrata, ai problemi del lavoro. Abbiamo visto sull'ATR Marsilio prese impegni specifici qualche settimana fa davanti ai sindaci, davanti ai sindacati e soprattutto ai lavoratori. Purtroppo dopo settimane di silenzio registriamo un'assoluta mancanza di impegno da parte dell'assessore competente ma soprattutto del Governatore Marsilio. Caro Governatore, caro Presidente, nella Regione Abruzzo ci sono tante difficoltà. di lavoro, ambientali, ma si ricordi anche della Val Vibrata, una realtà importante di 83 mila abitanti che coinvolge e soprattutto sostiene in maniera forte e determinata l'economia della nostra Regione.